Ivano Iacomelli, il campionato di eccellenza è fermo per le festività pasquali, ovviamente il Civitecchia però continua ad allenarsi e a fare delle amichevoli. Facciamo però un bilancio di questa stagione, sei soddisfatto di quanto fatto dalla tua squadra, soprattutto credo da quando c'è Ugo Pronti? Sì, assolutamente soddisfatto, abbiamo fatto quello che era nelle nostre possibilità, credo con un bel gruppo di giovani, quindi abbiamo prospettato anche un buon futuro. Vediamo, adesso ci tendono tre partite fondamentali, importantissime, per cui voglio che l'ambiente sia sereno, che non ci siano discorsi vari, chi va, chi viene, insomma non è questo il momento, adesso è il momento di raccogliere un po' i frutti del lavoro fatto e di fare un fine campionato tranquillo, però per fare questo bisogna che nelle prossime tre partite la squadra si esprima nel miglior modo possibile, e soprattutto che il pubblico ci sia vicino perché due ne giocheremo in casa e quindi questo è fondamentale per far rimanere il Civitavecchia nel campionato d'eccellenza dove milita attualmente. Si è parlato anche della società Civitavecchia, di alcune trattative, qual è la verità? No, la verità è semplicissima, ho sempre detto che se si affaccia a qualche personaggio serio che vuole portare avanti con noi o senza di noi, per portare a una crescita della società, quindi a portarla nel campionato, in prospettiva nel campionato di Serie D, e chi può dirlo anche oltre, noi siamo prontissimi a farci da parte e fare tutto quello che è in modo e in maniera perché questo avvenga. Poi sarà lui che ci dirà se vuole la nostra collaborazione per il settore giovanile oppure anche per la prima squadra, oppure se i suoi progetti sono diversi. Abbiamo due o tre trattative, il momento purtroppo economico non è dei migliori. Il Civitavecchia non ha fatto grandi richieste, come ha già confermato anche il mediatore viterbese con cui ha un ottimo rapporto, ma anche l'altra cordata ci sta dicendo che per quanto riguarda il Civitavecchia calcio sarebbe pronto. Gli abbiamo esposto tutte le cose positive e anche quelle negative che riguardano sempre quel ricorso che abbiamo con l'ufficio dell'entrata, per cui tutti sanno tutto e se chiude questa trattativa sarà soltanto per il bene del Civitavecchia. Di sicuro Arduini, Clemeno, questi personaggi state certi non faranno più parte del Civitavecchia calcio e mi auguro anche del calcio in generale perché sono assolutamente dannosi. Soddisfatto immagino anche del settore giovanile perché anche quello sta crescendo moltissimo, è così? Sì, quello è il fiore all'occhiello perché siamo partiti veramente da zero nell'impianto da Magnini per quanto riguarda l'impianto e poi piano piano abbiamo avuto i successi di portare tre squadre su cinque nell'elite del calcio regionale che è il massimo per una squadra d'eccellenza. Ci auguriamo di mantenere le categorie, stiamo in corsa ancora con due, la Juniors l'ha già raggiunta e che poi speriamo anche che gli allievi di fascia B di Mister Mazza ci facciano ancora un altro regalo per conquistare l'elite anch'esso. Però voglio dire, scuola calcio che sta andando bene, diciamo il progetto calcio e nuoto abbinato ci sta dando soddisfazioni, è sempre migliorabile e sempre da migliorare. Abbiamo preso la scuola calcio elite, insomma questi anni chi ha lavorato sotto ha lavorato bene, che era un po' il mio principale obiettivo. Poi nel corso del tempo c'è stato qualcuno che ci ha fatto qualche scherzetto, lo abbiamo messo nel dimenticatoio, speriamo di non incontrarlo più e ci siamo accollati anche il discorso della prima squadra. Mi sembra che tutto sommato arriviamo a questo momento abbastanza sereni e tranquilli, con l'organico a disposizione completamente, c'è qualche acciaccato ma lo recupereremo. diciamo c'è un ambiente molto sereno, ogni tanto c'è qualche uscita di qualcuno che fa pensare che ci sono problemi, però ecco voi vivete tutti i giorni l'impianto allo stadio e quindi vedete il clima che si respira all'interno di oggi. Oggi chiaramente a Pasqua ne approfitto per augurare a tutti quanti i nostri amici del calcio, ma anche degli altri sport per augurare buona Pasqua a tutti quanti, a voto alla stampa e ci siete sempre vicini. Grazie.